Direi che oggi è una giornata veramente molto importante. La presentazione dei progetti strategici della scuola 2021-2023 è effettivamente stato molto importante. Si punta ad una scuola che sappia dare servizi, lo ha dimostrato, e di formazione anche in questo anno di pandemia, dove addirittura è aumentato il numero degli iscritti alla scuola nei corsi di formazione a tutti i livelli, per la pubblica amministrazione in particolare, per il settore della sanità. Si stanno allacciando dei percorsi di collaborazione sia nazionali che internazionali. Diciamo che la scuola attraverso questo progetto si sta ponendo come riferimento a livello nazionale non solo. Quindi diciamo degli obiettivi molto importanti che la regione ha voluto condividere con l'amministratore e vogliamo assolutamente raggiungere e perseguire. Credo che ci siano veramente tutte le condizioni per fare della scuola Umbra di amministrazione pubblica veramente un altro fiore all'occhiello della nostra regione. In termini di formazione, di aiuto, di supporto alle pubbliche amministrazioni, ma anche a tutto il mondo economico, alle nostre imprese e ai cittadini in generale. Il cambio di paradigma in questo momento è quello di fare delle nostre partecipate, quindi anche di questa prestigiosa scuola, uno strumento che la nostra comunità può percepire come utile. E' straordinario il rapporto che si è creato di sinergia anche con le altre partecipate regionali. Diciamo che stiamo svolgendo e portando avanti un lavoro sinergico fondamentale per la ripartenza dell'Umbria. Amministratore Magarini, oggi Scuola Umbra di amministrazione pubblica presenta con Regione Umbria il nuovo piano strategico 2021-2023. Quali sono le linee guida del piano? Grazie per la domanda. Partendo in generale, il piano di formazione deve rappresentare un forte cambiamento nell'ottica di contribuire a una maggiore efficienza, ma soprattutto efficacia della pubblica amministrazione. E' un percorso impegnativo, ma altrettanto virtuoso e esaltante. Passa attraverso un aggiornamento forte della programmazione formativa da parte della scuola, un ampliamento delle competenze stesse della scuola, una forte implementazione tecnologica e una razionalizzazione e efficientamento della gestione amministrativa della scuola stessa.